Ciao a tutti, bentornati. San Valentino è praticamente alle porte, chiaramente Look Fantastic si è preparata per l'occasione e ho fatto venire fuori questa box speciale per San Valentino. Ad ogni occasione speciale, come Natale, Pasqua, io ad esempio a Pasqua l'anno scorso ho preso la box, cioè l'uovo, e all'interno ho trovato dei prodotti che innanzitutto non mi aspettavo, in full size era uno spettacolo. E quindi a tutte le volte che il Fantastic esce fuori con queste box in edizione limitata, io non me le lascio sfuggire, sia perché penso che convenga anche a livello di prezzo, per la qualità dei prodotti, anche per la tipologia dei prodotti, insomma trovo che siano molto vantaggiose. Quindi se vi devo dare un consiglio e non vi piacciono magari le box mensili, buttatevi sulle box in edizione limitata perché sono secondo me imperdibili. Questa box qui in particolare, come vedete, è molto bella, di questo rosa carinissimo, con questa scritta Eider Lover, si apre in questo modo, spero di riuscire a farvi capire, si apre in questo modo, tipo scrigno, tra l'altro il retro è carinissimo perché ha tutti questi cuoricini con queste frecce molto San Valentino, chiaramente. Vediamo un po' che cosa contiene. Io sono contenta perché alcune di queste cose erano nella mia wishlist, quindi assolutamente dovevo prenderla. Vediamo un po' una panoramica di quello che andremo, che troveremo all'interno. Non si vede nulla perché c'è il Deppian, il Deppian come sempre che ci spiega che cosa andremo a trovare all'interno della box. Vi faccio vedere così, di sfuggita, quello che troveremo all'interno. Io direi, vi mostro un po' una panoramica, ma andiamo subito a vedere quello che ci aspetta. Allora, io partirei da questi due prodotti di Aveda, che sono due prodotti per capelli della linea Cherry Almond. Sono uno shampoo, che è questo qui, è il suo balsamo. E la linea di Aveda ha la ciliegia e ha l'olio di mandorle dolci. Quindi è una linea tendenzialmente illuminante. Sì, perché penso che chiaramente l'olio di mandorle dolci è prettamente illuminante. E anche la ciliegia è un ingrediente che va a donare luminosità al capello. Io andrei anche a sentire la fragranza. Intensa come fragranza. Sono contenta perché sto provando il prodotto termoprotettore di Aveda, che ho trovato infatti all'interno di una vecchia box, credo proprio quella di Pasqua, ma l'ho trovata anche in un calendario dell'Avento. È un prodotto che mi piace tantissimo perché protegge benissimo i capelli. Poi Aveda all'interno ingredienti di origine naturale. Infatti questo shampoo, questi due prodotti, mi dice anche qui sopra sul Debian, che sono composti per il 98% di ingredienti di origine naturale. E appunto vanno a donare un capello più luminoso, più fluido e più lucente. Benissimo. Altro prodotto, e di questo sto facendo praticamente scorta, ma qui siamo in formato da 250 ml. Quindi siamo di formato, io direi, più che full, io direi maxi. Ed è il famosissimo tonico esfoliante di Rennes con gli acidi H. Quindi credo sia acido lattico e acido azaleico, se non sbaglio. Ricordavo anche acido glicolico, che va a donare, che va a fare un'esfoliazione e dona anche luminosità al viso. Quindi è un tonico che io sto utilizzando, ce l'ho in diversi formati. Ed è un tonico che mi piace tantissimo, io lo apprezzo tanto, quindi sono contenta di averlo comunque ritrovato all'interno di questa box, perché è un prodotto che io utilizzo volentieri. Poi, altro prodotto all'interno è un prodotto di Illamasqua. Qui siamo di prodotti make-up ed è un illuminante da 15 ml ed è il Beyond Liquid Eyelighter. Illamasqua va forte su Look Fantastic. Ed è un illuminante da 15 ml. Vediamo un po' come... Wow, sembra oro, puro. Vediamo se riuscite anche a vederlo da qui, si percepisce. È molto riflettente. Ha proprio queste micro perlescenze che riflettono la luce, ma in maniera molto delicata, chiaramente va messo nei punti un po' più... dove ricerchiamo un po' più di luminosità, tipo gli zigomi, tipo l'arco di cupido, insomma, nelle zone dove ci piace un po' di più illuminare. Devo dire che mi piace, pur essendo in crema, perché tendenzialmente l'illuminante in crema è abbastanza forte, è abbastanza strong rispetto a un illuminante in polvere. Questo qui è nella colorazione OMG. È un, io direi, uno champagne rosato. Molto bello. Poi, all'interno c'è anche un adesivo, dove c'è scritto Look Fantastic Beauty Box. Carino. Altro prodotto, anche questo qui, un bel doppione, ed è il mascara di Too Faced, il Better Than Sex. Non voglio aprirlo, perché poi vi svelerò quello che ho intenzione di fare, però vi mostro il packaging, anche se non voglio romperlo. Ed è l'iconico mascara di Too Faced. Ed è uno dei miei mascara preferiti, perché mi piace un sacco come districa le ciglia, come le pettina, come le incurve, come le volumizza. È un mascara super iconico. Io lo consiglio a tutte quelle che cercano un bel volume alle ciglia, ma senza fare grumi. È un bellissimo mascara. Questo qui è nel formato mini, quindi da 3,9 grammi. Ma vi assicuro che anche mascara piccolini durano un bel po'. Poi, altro prodotto, è un prodotto di questo brand che ero stracuriosa di provare. Sto parlando di One One Skin, ed è un booster. Andiamola a vedere. È un booster illuminante, rose gold radiance. Sì, è un booster illuminante da 20 ml. Oltre ad essere bellissimo il packaging e la boccettina super specchiata di questo rose gold, avevo letto essere... Chiaramente il booster io lo applico sia da solo, prima del siero, a volte lo miscelo anche al siero, ma si può utilizzare anche come... Cioè, miscelandolo alla crema. Il booster non è altro che un siero più potenziato, con degli attivi un po' più concentrati e più potenti. Io qui leggo essere composto da acqua di rose e 24 carati di oro puro, colato, credo. Mi dice anche che riduce le rughette. Vedremo. Mi consiglia di shakerarlo prima di usarlo e utilizzare massimo due pump, due drop, due gocce in sostanza. E mi dice anche che si può anche miscelare alla crema oppure utilizzarlo direttamente sul viso. stracuriosa, è un brand... Questo è un brand luxury ed è un brand che... Brammavo da un po' e volevo provare alcuni prodotti, quindi sono stracuriosa e felice di aver trovato questo prodotto all'interno di questa beauty box. Vediamo invece che cos'altro ci riserva. In realtà siamo alla fine. I prodotti in realtà, se consideriamo che questi sono due prodotti separati, sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei... Sono sette prodotti all'interno. L'ultimo prodotto che... Vi faccio vedere soltanto di che brand stiamo parlando. Stiamo parlando di Elemis. Voi sapete il mio amore per Elemis. In realtà devo svelarvi che stavo per iniziare a utilizzare le creme di Elemis, la crema giorno e la crema notte. Quando ho scoperto che all'interno di questa box ci sarebbe stato questo prodotto, ho aspettato perché vorrei utilizzare l'intera linea di Elemis per la skin care a partire dalla detersione. Infatti qui stiamo parlando del detergente oleoso, in realtà in burro, che chiaramente è oleoso. All'interno c'è anche il panno, il che è tanti punti in più per il brand, ed è il panno in microfibra per andare a pulire il viso. Io trovo una cosa utilissima e anche giusta. Questa qui in particolare è la nuova versione del burro. Vediamo se però riesco a tirar fuori il prodotto. Sì, c'è. Ed è la versione alle rose. La versione classica infatti si presenta con il packaging azzurro, comunque celestino. Questa versione qui invece ha le rose e credo sia un'edizione nuova. Sì, anche questa qui ha il Pro Collagen un sacco di rose e si presenta chiaramente in burro che chiaramente scaldandolo sul viso e con le mani si scioglie, diventa oleoso e vado a struccare tutto il make-up e a pulire il viso. Vi ho già parlato della doppia detersione in uno dei miei vecchi video andatelo a vedere se ve lo siete persi e io trovo uno step attualmente per me essenziale prima lo snobbavo non ci volevo perdere più di tanto tempo ma in realtà ritengo che fare una detersione fatta per bene permette anche alla pelle di essere più pulita e di preparare secondo me la pelle a una skin care più intensa. Quindi io sono stra a favore della doppia detersione infatti sto acquistando diversi prodotti soprattutto per la fase oleosa come questo balsamo anche in uno degli ultimi video che ho fatto sempre all un altro balsamo struccante sto anche provando l'olio struccante di Dior che sto amando e quindi ero felice di trovare questo prodotto perché poi è l'emission brand che mi piace tanto stra felice di aver trovato anche il panno trovo che sia una marcia in più per il brand e che altro c'è qui all'interno c'è anche il fogliettino credo per le istruzioni ma non penso ce ne sia bisogno però magari andrò anche a leggere c'è qualcosa potrebbe esserci anche qualcosa di interessante da sapere e nulla questa era la bellissima box di Look Fantastic non vi ho detto il prezzo il prezzo si aggira intorno alle 50 euro io però avevo anche uno sconto ho approfittato di uno sconto di 10 euro quindi l'ho pagata 40 euro ma comunque il prezzo a parer mio per la qualità dei prodotti all'interno soltanto questo prodotto se volete acquistarlo vi costa 40 euro 30 euro per dirvi spendendo 50 euro avete prodotti secondo me molto validi anche come il booster di One One Skin come il tonico esfoliante di Ren in formato da 250 ml io ritengo sia molto conveniente come box ma voglio dirvi anche che visto che alcuni dei prodotti che ho trovato all'interno sono per me doppioni come ad esempio questi due volevo mettere in palio per voi questo mascara il formato un po' più piccolo che non ho ancora aperto di questo prodotto di Ren io vorrei fare anche un regalo a voi visto che ultimamente stiamo crescendo un po' di più mi fa piacere anche che state interagendo un po' di più e vorrei anche premiare chi spesso mi segue e quindi insomma volevo mettere in palio un po' di cose presto uscirà un video in cui magari vi dirò quello che ho intenzione di regalare a uno di voi e nulla spero che questa cosa vi possa far piacere perché insomma mi andava mi va di ringraziarvi anche per il supporto che mi state dando se vi va chiaramente se non siete ancora iscritti al mio canale se siete passati per la prima volta sul mio canale magari iscrivetevi e lasciatemi un messaggio se vi fa piacere passate anche dalla mia pagina Instagram io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto ciao ciao